buongiorno qui oggi siamo sul lago di como e e stiamo facendo un percorso di lungo circa 10 chilometri che parte da colonno e arriva a tre mezzo attualmente dove mi sono fermato a fare questo breve filmato ci troviamo a sala comancina e di fronte a noi c'è l'isola di comacina dietro al campanile che vedete ed è un posto abbastanza incantevole il paese laggiù in fondo e isola cioè e sala comacina qua giù c'è il porticciolo qui c'è il borgo antico vicino alla chiesetta che nel ritorno cercheremo di andare a visitare comunque questa è la seconda tappa e adesso proseguiamo vi faccio vedere questa parte del lago e quella è un'isola dove come potete vedere è molto piena di alberi quindi è molto verde so che c'è un ristorante molto rinomato chiaramente non alla portata di noi proletari ma dove si mangia molto bene perché una volta ho visto un servizio in tv dove facciamo vedere come come questo ristorante come si pranzava ai costi vabbè comunque è una roba per ricchi ecco per dirla in breve e niente però è un posto molto bello va bene penso di lice giù di lice argenio più avanti c'è l'enno altri altri paesi guardate giù di qua di fronte all'isola comacina ci sono delle ville laggiù vicino al porto niente penso di di avervi fatto vedere poi di fronte non lo so di fronte c'è l'altra sponda ci sono un sacco di paesi adesso dirvi cosa quali quali siano penso che si vada a bel agio giù di là e niente qui abbiamo finito il paese continua super la montagna lì noi adesso proseguiamo nel nostro percorso sono con altri quattro amici va bene penso di essere stato abbastanza esaustivo chiudo qui il filmato buongiorno buongiorno